Ciao ragazzi, ciao ragazze, bentornati sul canale, qui si è il giorni che vi parla e adesso qui ne ho visto un video riguardante Mike, ragazzi Allora ragazzi, prendiamo quel presupposto che in questo video qua voglio raccontarvi un po' di elementi, ok? Oltre che voglio dirvi che, proprio come avete ben notato, il mio canale sta svolgendo anche riguardanti gli shorts, ok? Quindi è una cosa che veramente vi fa molto piacere, ok? Ho visto che avete fatto un... abbiamo insieme, ok? Ho fatto un sacco di visualizzanti Allora ragazzi, prima di ricordarvi questa cosa qua, voglio anche dirvi che mi trovate anche su TikTok, ok? Che io comunque, bene o male lo sapete, anche su Instagram, ovviamente troverete tutto in descrizione e anche sulle informazioni del mio canale, ecco, per l'appunto Poi, un'altra cosa ragazzi, volevo dirvi Se volete giocare con me un po' su Fortnite, mandatemi la richiesta, è sensazioni tutto, mi non ce l'ho, ok? Andatevi a vedere i miei vecchi video dove troverete tutto quello che vi serve, ok? Il nome e tutto il resto Ho visto inoltre che molti di voi mi hanno fatto un casino di regali, ok? Tantissimi, veramente Tra cui due skin in cui ringrazio le persone che mi hanno fatto, veramente siete... no Ma non perdiamoci in chiacchiere e parliamo di questo progetto che stai facendo con gli shorts, ok? Prevenantemente è una cosa di tempo, ok? Essendo che sono via per lavoro e tutto il resto Non ho anche molto tempo per fare i video Perché sono veramente impegnatissimo, ragazzi Questa cosa qua mi aiuta tantissimo, ok? Infatti uno shorts è andato stra virale, ok? Tra cui anche tutti gli altri che hanno fatto migliaia di vision Questa cosa veramente è top Il mio canale è salito di tutti iscritti, tantissimi, veramente troppi D'altronde ho fatto anche un sacco di vision Comunque dovete vedere sul post community Tutto qua c'è post community anche, scusate, avevo fatto un post ma l'ho cancellato Andatevi sull'informazione troverete tutti i video che ho fatto Ma non è tanto una questione di iscritti più che altro è una questione di tempo mio personale, ecco Adesso ragazzi ringrazio tutte le persone che mi hanno chiesto di entrare nel loro server di discord Dove volete fare anche delle campagne, giocare a minecraft facendoci video sopra, delle serie Su questa cosa qua mi fa molto piacere, infatti con molte persone sono entrato e abbiamo già fatto qualche progettino Questa cosa qua mi fa molto piacere e spero che anche a voi mi piaccia, ok? In futuro vedrete molti video e contenuti di questo tipo Ok ragazzi colgo l'occasione per chiedervi ovviamente come state Spero tutto bene, fatemi sapere qua sotto nei commenti In tutto, raccontatemi un po' cosa avete fatto Per questo tempo, qualche non ho pubblicato video Fatemi sapere, ecco Rispondo a una domanda velozissima Perché non faccio video su Fortnite Guarda, ultimamente sto facendo più che altro video di minecraft Perché mi piace di più E praticamente con Fortnite ci faccio con gli altri utenti E ci facciamo anche un video sopra Mi fanno un video sopra, quindi ci guadagnano anche loro E anche io, ecco Colgo l'occasione per rispondere anche a un'altra domanda Riguordante la nota delle guai della terza parte Che vi avevo già accennato, però appunto, nei vecchi video Mentre c'è due shock che fa furbo Allora, comunque Dicevamo Uscirà, ok? Uscirà quella appunto Fatto sta che per sbaglio ho eliminato Per virgolette il file, no? Di minecraft qua sul Sulla play, per appunto Per sbaglio l'ho eliminato e quindi Lo ricarerò e ci giocheremo tranquillamente Mi farò anche un video sopra Ecco ragazzi Bene o male le cose importanti ve le ho dette Spero che vi sia piaciuto il video Ovviamente lasciate un bel like, condividete E attivate la campanella di avvisi Perché i post come i metti li farò adesso Quasi pochissime volte Giusto per ridere Ogni tanto li farò adesso Inizialmente l'ho fatti tanti, tanti Ma adesso ogni tanto Va bene? Quindi un bel like, condividete E attivate la campanella di avvisi E noi ci vediamo in un prossimo video Ciao ragazzi